Tick by Tick è stato progettato seguendo i più moderni standard di interazione con l'utente. Ad esempio è possibile sfruttare il meccanismo di trascinamento del mouse per spostare un titolo dalla sua posizione originale, oppure per spostare o ridimensionare le colonne di una tabella. Altre funzionalità interessanti sono la presenza dei mercati mondiali in delay le rubriche con l'agenda dei principali eventi finanziari del giorno e della settimana e i report analitici di importanti società italiane di consulenza finanziaria. Il notiziario in tempo reale è prodotto dall'Agenzia Teleborsa, con centinaia di notizie giornaliere. Inoltre è sganciabile dal corpo principale di Tick by Tick in modo da tenere sotto controllo le quotazioni senza perdere d'occhio gli eventi quotidiani. È possibile impostare allarmi su superamento soglie, con segnalazione acustica e con invio di e-mail. Tick by Tick, infine, è in grado di interfacciarsi in tempo reale verso Metastock o 3Station 2000. Mettere titoli in collegamento è un'operazione davvero semplice, come nella sequenza che state osservando. Le funzionalità in interfaccia in tempo reale comprendono anche il DDE verso Client, come Excel, come nella sequenza che state osservando. Facendo clic su una colonna, è inoltre possibile ordinare istantaneamente la tabella secondo l'ordine crescente o decrescente della colonna. In questo modo, ad esempio, è possibile ottenere una classifica istantanea dei migliori e peggiori titoli ordinandoli per variazione percentuale. La guida interattiva è sensibile al contesto. In ogni situazione è possibile premere il tasto F1 per ottenere dettagliate informazioni sull'operazione che si sta effettuando. La gestione Portfolio consente di mantenere sotto controllo la consistenza e la composizione di un numero illimitato di portafogli di titoli separati, il calcolo dei profitti, la plus-minus valenza, il controvalore attuale e storico. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale, sia in forma numerica che come diagramma. Per ottenere queste prestazioni, non avete bisogno di un canale particolarmente veloce. È possibile ricevere i dati di tutti i mercati in tempo reale, di altissima qualità, anche con un modem a 9600 BOD.